Ciao ragazzi, oggi parleremo del simbolismo francese. Il simbolismo è sicuramente la migliore espressione del clima decadente. Il padre, il precursore, potremmo dire il fondatore di questa nuova poetica fu Charles Baudelaire, autore nel 1857 dei Flors du Mal, ovvero i Fiori del Male. Quest'opera è sicuramente la raccolta di poesie più importante e rivoluzionaria dell'Ottocento e forse dell'intera modernità letteraria. Chiaramente quest'opera vinse il primo più ambito da qualsiasi prodotto dell'intelletto umano, ovvero la censura, la condanna. Un'opera troppo avanti per essere capita nel suo presente, ma che diventerà il fondamento del movimento simbolista trent'anni dopo, quando nel 1886 Jean Moréat fondò la rivista Les Symbolistes come forma di secessione dalla rivista Les Decadentes, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata. I simbolisti e i decadenti sono infatti un po' come cani e gatti. Inizialmente, se però noi alziamo la nostra prospettiva e guardiamo dall'alto l'Ottocento, noteremo tantissimi punti in comune tra decadenti e simbolisti. I più importanti esponenti del simbolismo furono Rimbaud, Mallarmé, ma anche Verlaine, sebbene non aderì mai alla separazione simbolista dai decadenti. Proprio Verlaine, nel 1884, coniò l'espressione di poeti maledetti per definire un gruppo di intellettuali d'avanguardia alla ricerca di forme poetiche sempre nuove, sconosciuti al grande pubblico che conducevano una vita sregolata da bohemian, all'insegna quindi dell'ascis, dell'oppio, dell'assenzio e dell'etere. Ricercavano quindi questi poeti l'estasi e cercavano di sondare l'inconscio. Come scrisse Baudelaire, il poeta della modernità ha perso l'aureola. Quindi il poeta è libero dal peso della morale, dall'essere una guida per il popolo, ora può andare a prostitute senza nascondersi. Con i simbolisti cambia radicalmente il ruolo del poeta e della poesia. La poesia acquista una nuova funzione che mai era stato osato attribuirle in passato, un potere gnoseologico, ovvero una capacità conoscitiva alternativa alla scienza. Le poesie fino a questo momento erano state scritte per elogiare un signore, per cantare la bellezza di una donna o per criticare certi aspetti della realtà, ma mai si era giunti ad affermare che la poesia potesse conoscere aspetti della realtà in modo alternativo alla scienza. Queste verità sono suggerite al poeta dai simboli. Vediamo adesso che cos'è il simbolo. Questa sarà forse la parte più difficile della puntata. I simboli sono delle realtà materiali che cadono sotto ai sensi del poeta e che accendono un'illuminazione su un significato universale dell'esistenza. Conosciamo già delle figure retoriche di paragone, come la similitudine, sei come un leone, o la metafora, sei un leone. La differenza con il simbolo sta proprio nel fatto che qui attorno a me, in questo bagno non ci sono leoni e nemmeno se esco da questa scuola incontrerò leoni, nemmeno magari compiendo mille chilometri di viaggio incontro leoni. Tutto ciò se io do a qualcuno di voi del leone si capisce subito che gli sto facendo un complimento, gli sto dando del coraggioso. Il simbolo invece cade sotto i nostri sensi tutti i giorni, tuttavia non riusciamo a sentirlo. Solo il poeta è in grado di coglierlo e di trasmetterlo, come ad esempio l'orologio portato avanti da tutti gli abitanti di Milano, che indica in fondo la fretta, l'inutile rincorsa del tempo che eternamente ci sfugge. Dunque il simbolo, questo tipo di conoscenza, come già dicevamo per il decadentismo, è basata sull'intuizione. I simbolisti la chiameranno la poetica dell'illuminazione, una rivelazione istantanea che ci mostra ciò che sta dietro lo schermo del visibile. La poesia fa dunque emergere i lati più oscuri della realtà, quelli che la scienza in fondo non riuscirà mai a spiegare. Il simbolo dunque rispetto alla metafora, alla similitudine, è più difficile da decifrare ed è per questo che dal simbolismo in avanti e per tutto il Novecento le poesie diventeranno sempre meno chiare, perderà importanza la struttura della frase, la sintassi, in favore della parola, a volte isolata all'interno di un verso e svincolata dai nessi logico-grammaticali, così da assumere un valore assoluto e caricarsi di questa nuova forza simbolica. La parola evoca in modo sintetico e maggiormente espressivo gli stati d'animo del poeta o il mistero della natura. Ogni lettore interpreterà in modo soggettivo queste illuminazioni, diventando a sua volta una sorta di poeta virtuale, proprio perché, come scrive Ungaretti riguardo alla poesia di Mallarmè e dei simbolisti, le loro poesie non vanno capite, vanno sentite. O come sostiene Montale in un'intervista, se avessi voluto farmi capire, non avrei mai scritto poesie. Ecco perché la poesia simbolista si può definire una poesia per immagini. Cioè il poeta utilizza oggetti come un fiore, un tappeto, la tessera di un mosaico, un albatros, che perdono il loro concreto significato e diventano appunto simboli. Alludono cioè al mistero che circonda il mondo, o alle emozioni, alle tensioni che si agitano nell'animo del poeta. La poesia simbolista rifiuta dunque la logica e la sostituisce con l'analogia. Questa è una parola molto importante. L'analogia è un collegamento non logico che nasce nell'inconscio del poeta. Si arriverà addirittura alla scrittura automatica dei surrealisti, che registravano sulla pagina i loro pensieri così come nascevano, così come l'inconscio li dettava loro, senza quasi la mediazione della coscienza, in modo irrazionale. Ecco dunque che il sogno diventa la porta principale attraverso cui poter entrare in contatto con l'inconscio. Non è un caso che ci fosse un poeta simbolista di seconda generazione, un certo Sampo Roux, che viveva in un residence e tutte le notti, prima di andare a letto, appendeva fuori dalla porta della sua stanza un cartello con su scritto «Non disturbate, il poeta sta lavorando». In quest'ottica, che svaluta fortemente la razionalità, il poeta svuota le parole del loro significato originale e dà nettamente più importanza al significante di queste parole, ovvero al suono, al ritmo che esse possiedono, alle pause che le circondano. Il poeta è dunque colui che riesce a sentire questi simboli e a descriverli nelle sue poesie. Per questo cambia la definizione di poeta. Dal poeta vate, tipico del romanticismo, guida del popolo, interprete dei sentimenti risorgimentali, si passa al poeta veggente, cioè che vede ciò che gli altri non riescono a vedere. Bene ragazzi, con questo è tutto. Ricordate ciò che scrisse il poeta. Ciò che è veramente importante nella vita non fa più rumore del crescere dell'erba, lieta dove non passa l'uomo. Grazie.